...mane ha avuto un problema, quindi è stato sostituito. Sentiremo più avanti. I fattori sono tutti sotto la macchina... ...entrano attualmente nella riserva... ...e sono tornato pronti per il romano. Benugno! Ligia! ...e quindi è inutato, ok? Sì, sì! Sono giusto Fermi! Fermi! Sono giusto Fermi! Cattarosa! Adi! Sì! 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 Bravo! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.